C'è da scommettere che creeranno poche polemiche, discussioni quantomeno la decisione ormai ufficiale dell'amministrazione comunale di correre la terza giostra del Saracino nell'anno 2016 e quella dedicata al giubileo della misericordia. Intanto c'è la presa di posizione delle due associazioni di categoria dei commercianti, in particolar modo Conf Commercio per bocca della sua presidente Anna Lapini esprime le sue perplessità, così dice in un comunicato stampa rispetto appunto a questa terza giostra. Ovviamente in questo caso si difendono gli interessi anche dei commercianti in particolar modo di Piazza Grande perché sono quelli che sopportano poi di fatto anche il montaggio delle tribune, cioè il fatto comunque di avere la piazza occupata a questo punto per più di una o due settimane. Dall'altra parte invece il direttore di Confesercenti Mario Checaglini diciamo che non si esprime in maniera negativa ma dice semplicemente rispettiamo la volontà dell'amministrazione comunale di correre questa giostra, la riteniamo diciamo un buon veicolo di promozione del territorio. Detto questo noi vorremmo però capire che cosa ne pensano gli aretini perché siamo fermamente convinti che questa manifestazione non sia né del Comune di Arezzo né di qualsiasi altra istituzione, ovviamente insomma in maniera detta in maniera assolutamente serena ma semplicemente per dire che la manifestazione è degli aretini e quindi noi vogliamo capire che cosa ne pensa il popolo aretino. A me fa piacere quando in città ci sono manifestazioni come queste, ho letto nel giornale che però c'è un pochino di polemiche rispetto a quello che è diciamo tutta l'organizzazione del commercio che chiaramente in quei periodi è un po' penalizzata e quindi sono nel cuore anche di quelli che hanno le attività. Personalmente mi fa piacere però capisco che può essere un problema piacevole per alcuni che hanno delle attività. Io sinceramente sono d'accordo perché sono del quartiere di Porta del Foto, più se ne fa e più Speranza sa. No, in verità non ne so niente però ho visto su Facebook che c'era, ma perché la vogliono fare? Beh sicuramente è un'occasione in più per attirare qualche turista, sicuramente un evento in più non fa male. Siamo aretini, non seguiamo la giostra ma se c'è qualunque cosa, qualunque evento per la città fa bene la città appunto. Negli ultimi anni diciamo che è stata tra virgolette come tradizione solo due giostre, quindi essendo una persona a cui piacciono molto le tradizioni non è che mi piaccia molto questa terza giostra.